Si raccusa case e negozi allagati, famiglie evacuate, danni ingenti, subito stato di calamità per la provincia Aretusea. Case e negozi danneggiati, campi allagati, famiglie evacuate anche nella nostra provincia. Le notizie dei danni sono preoccupanti, occorre muoversi e farlo subito per dare soccorso immediato ai cittadini che hanno vissuto ore drammatiche. È necessario attivarsi immediatamente per dichiarare lo stato di calamità naturale e prevedere i ristori per i comuni flagellanti dal maltempo per le imprese e le famiglie. Lo scenario è drammatico per il quale, assieme ai miei colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle a Lars, ho chiesto al Presidente Schifani di volere proclamare lo stato di emergenza e di calamità per la provincia di Siracusa, messa a dura prova da due giorni di pioggia battente e burrasca. Non c'è tempo da perdere, la burocrazia non sia nemica del territorio siracusano. La conta dei danni sarà purtroppo ingente, così il deputato regionale Carlo Gilistro del Movimento 5 Stelle si rivolge al Presidente della Regione in merito alla difficile situazione che sta vivendo la provincia di Siracusa. Sono in contatto costante con il Capo della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, e insieme continuiamo a monitorare l'evolversi della situazione relativa a molti tempi nella Sicilia sudorientale, in attesa di ricevere la relazione dettagliata sui danni causati dal ciclone mediterraneo stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi. Lo dichiara il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'ondata di maltempo che ha colpito in queste ore alcune aree dell'isola. Grazie a tutti.